Potrebbero aumentare ancora i pedaggi delle A24 e A25 e quanto emerge dall'incontro dell'altra sera al Ministero dei Trasporti con i vertici della concessionaria Strada dei Parchi e alla presenza anche del Ministro dell'Economia Tria. L'ipotesi era quella di congelare per tre anni l'aumento della tassa autostradale. In cambio Strada dei Parchi punta alla ratizzazione dei pagamenti di concessione ad ANAS, ma è giunto categorico il no dell'ente nazionale. E così dal primo settembre Strada dei Parchi si dice costretta ad applicare l'aumento dei pedaggi, già approvato da Toninelli e dall'ex Ministro del Rio del 19%, quasi un quinto in più rispetto alle attuali tariffe. Intanto, benché il degrado dei piloni e l'instabilità di alcuni tratti dell'autostrada rivelino la mancata manutenzione da parte della concessionaria, il governo ha approvato il maxipiano da due miliardi di soldi pubblici che andranno a riempire le casse di Strada dei Parchi, che, si spera, li utilizzerà per gli interventi più urgenti. Per la manutenzione del tratto autostradale di una delle zone più sismiche d'Italia, la concessionaria aggiungerà circa un altro miliardo, denaro che sarà recuperato tramite l'aumento dei pedaggi. Ma non è finita qui. Strada dei Parchi si godrà altri dieci anni di concessione, ottenuti senza alcuna gara pubblica. E della nazionalizzazione delle autostrade, invocate a gran voce dai Cinque Stelle dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, non ne rimane nemmeno l'eco. A dimostrazione di come, seppur avvenisse un'altra disgraziata tragedia che scuota l'opinione pubblica, certe cose sembrano destinate a non cambiare mai.